Buon dia, siamo Aram al Signor Sindicato di Ralgè, Mario Bruno, se mi potete dire qualche cosa che a voi si appresenta la Scara Vicara, la gara 2017, cosa mi potete dire, amare? Ma che è un momento per i ralgè ampuntanti, è un momento ampuntante per la sport e i ralgè, non solo per la sport, la Scara Vicara è una crono scalata che si fa a ralgè del 1955, la prima edizione era riservata alle donne e a voi, a Carmen Usai, che si garantisce una conferenza stampa, raccogleremo anche il momento, 56 anni di Scara Vicara e mi rende a voi anche di fare un abbinamento, non solo amare la sport, si gara al Parco Assistenza, il Parco della Smacchina, San Via Giovanni XXIII, la Via della Resistenza, ma anche amare la spettacola, si gara a momenti musicali che prenderanno tutte le sue tate, non solo le sue tate del Ralgè, perciò è un momento ampuntante, credo che per tutta la Saldegna è la crono scalata, la mese antica di tutta la Saldegna, tra la mese antica in Italia, perciò è una festa per tutti gli altri. Per i suoi tati, per i suoi cittadini, per la Gualda, c'è tanta gente, è un programma, se non vogliono, abbiamo altre cose di che cultura alza, attualmente, ora che ciò si dice, abbiamo altre cose di cultura, di musica o di sport, cosa dici? Ma ora, io ho già la fondazione, la fondazione Meta, di presentare il programma di Cadeanne, il Sigeracca è che sorpresa, è un programma che Paolo Fresio e Antonio Marra stanno preparando, un momento che dura un anno, un momento internazionale, però noi siamo adesso solo ciò, siamo arrivati molti momenti dedicati anche alla nostra cultura, alla nostra tradizione, al nostro folklore, alla nostra canzone. L'internazionalità del Ralgè si sposa, ama la sua particolarità, ama la sua lingua, ama la sua canzone, ama la sua tradizione. Tanto in questo modo, per cosa credo che il Zalgareso ci vuole. Grazie, signor Bruno, buon aggiornare e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.